Buongiorno amici, siamo a martedì 16 novembre. Cosa ci insegnano oggi i mercati finanziari? Ogni giorno osservandoli, osservando i grafici, cercando di carpire un po' i movimenti che hanno le classi di investimento e i grafici ne sono un po' la sintesi perfetta, tra virgolette, a mio avviso si può imparare sempre qualcosa di nuovo appoggiandosi poi sull'analisi tecnica, sull'analisi intermarket, sull'analisi fondamentale, sull'analisi ciclica, sull'analisi volumetrica, sull'analisi macroeconomica, tutte queste tipologie di discipline che poi convergono nei mercati finanziari ogni giorno trovano conferme o meno e comunque ci possono aiutare a evolvere la nostra strategia di investitori consapevoli, investitori più evoluti. Prima di partire con l'argomento di oggi vi invito ad iscrivervi a questo canale, a cliccare sulla campanella per restare aggiornati sulle mie idee, i miei spunti, a commentare, cercherò di rispondere appena possibile e a leggere anche i miei articoli sul Sole24ore. Trovate il link in descrizione dove approfondisco più nel dettaglio questi spunti che ci sono appunto che emergono in questi brevi video. Ecco oggi vorrei parlarvi del messaggio tra virgolette di quello che ci sta dando in questo momento comunicando il grafico del bitcoin. Il bitcoin ha avuto questa mattina una prosecuzione di un ribasso che è cominciato nella notte come vedete qui nel time frame 15 minuti, questa candela delle due ha avuto un ribasso importante, poi c'è stata un tentativo di recupero, un altro ribasso, comunque un trend di brevissimo ribassista e poi alle 11 una bella candela, o brutta, insomma per dirsi voglia, brutta candela rossa e poi adesso c'è stato un tentativo di recupero. Comunque il bitcoin è arrivato fino a, è sceso sotto i 59 mila dollari, quindi circa 10 mila in meno rispetto al record raggiunto nei giorni scorsi in area 60 mila dollari. Torniamo sul trend daily. Ecco, il bitcoin ha avuto in questa giornata, sta avendo perché chiaramente la candela non è ancora terminata, è in fase di costruzione, però c'è questa shadow, questa ombra che potete vedere che segnala che poi da lì, da quel minimo il prezzo è ripartito, adesso si trova intorno ai 60 mila e 800, quindi ha recuperato circa quasi 2 mila dollari rispetto al minimo, anzi forse di più, il minimo è stato 58 mila e 500, quindi ha recuperato 2 mila e 500 dollari rispetto a quel minimo. Quel minimo però dove è stato, dove è andato a poggiare? Ed è qui diciamo la lezione tra virgolette che oggi i mercati in questo momento ci possono dare, è andato a poggiare su questa linea rossa, questa linea rossa non è altro che la media mobile a 50 periodi del prezzo del bitcoin, chiaramente è una media, poi c'è la media, questa linea arancione è una media 26, la linea gialla è la media 12 periodi, quindi gli ultimi 50 prezzi in media hanno portato alla costruzione di questa linea rossa e il bitcoin sembra in questo momento, non lo sappiamo, magari quando vedrete questo video sarà completamente diverso, potrà essere anche andato giù all'altra media, due 200 periodi che è molto più importante, però sembra in questo momento aver trovato un supporto, quindi una base per rilanciarsi o comunque per non scendere oltre questo livello rappresentato largo circa dei 59 mila dollari, in questo momento dalla media a appunto 50 periodi. Perché è scolastico a mio avviso quello che è successo? Innanzitutto possiamo vederlo addirittura ancora più bello graficamente andando su Ethereum, la seconda criptovaluta per capitalizzazione e per importanza in questo momento nel mondo delle cripto. Anche qui abbiamo una shadow che tocca esattamente la media 50 periodi e poi il prezzo è un po' ripartito. Ecco, come mai, torniamo adesso sul bitcoin, come mai, diciamo, cosa ci può insegnare questo? Ci può insegnare che le medie mobili sono comunque da considerare, da valutare, da attenzionare per quanto riguarda una classe di investimento. A mio avviso non tanto perché è importante, diciamo, il discorso dei 50 periodi in questo caso, ma perché è una media molto famosa, molto osservata e sulla base della quale molti operatori, non tutti, prendono anche delle decisioni di mercato e quindi è una media, diciamo, dal punto di vista volumetrico che potrebbe indicare che c'è un affollamento di ordini, di volumi e quindi gli operatori sono più presenti in quell'area. Quindi, in teoria, in questo caso che stiamo parlando di un tentativo di rompere al ribasso, è più difficile rompere al ribasso una media a 50 periodi, se ben affollata, se osservata da tanti operatori. E quindi si verifica, insomma, quel discorso della profezia che si autoavvera o si può verificare, nel senso che se un qualcosa, da un punto di vista tecnico, è comunque seguito da tante persone, da tanti operatori e il fatto stesso che si è seguito crea quella sorta di effetto community che poi porta, diciamo, una concentrazione di volumi che in questo caso ha creato, potrebbe aver creato, lo scopriremo, almeno in queste ore si è rivelato così, un supporto momentaneo in questa zona. Ecco perché poi molti dicono che quando un asset di investimento cresce troppo rapidamente, come può essere giudicato il rialzo da 41 a 66 del bitcoin da praticamente in 19 giorni, sostanzialmente si lascia poi uno dei vuoti volumetrici e poi due, non dà il tempo alle medie mobili di avvicinarsi al prezzo di quel momento. Per esempio in questo momento il bitcoin, nonostante il calo di queste ore, è lontano dalla media 50 periodi, scusate, dalla media 200 periodi che è la linea rossa. È stato per parecchi giorni sopra la media 200 periodi e adesso ha avuto questo draw, questa caduta che sostanzialmente però lo ha visto, ripeto, poggiarsi in questo momento sulla media 50 periodi. Quindi la lezione che abbiamo oggi nell'analisi tecnica in questo caso ovviamente non sempre accade, non è una scienza esatta, sono soltanto probabilità eccetera eccetera, ma l'effetto community evidentemente degli operatori che in questo momento sono sul bitcoin sulla media 50 periodi è un effetto community importante e quindi avrebbe per ora determinato quella sorta di profezia che se autoavvera c'è una concentrazione di volume in quell'area che ha funzionato come supporto al momento. Quindi per questo motivo sono da vedere queste medie, non per prendere delle decisioni scientifiche, per basare la propria operatività in modo scientifico, ma sono da attenzionare, da valutare per quanto riguarda appunto le proprie analisi, un elemento in più da aggiungere alle proprie analisi. Un'altra cosa che oggi, vediamo un attimo la media, le linee, sgombriamo un po' il grafico, può essere interessante dal punto di vista tecnico ma lo dovremo capire nei prossimi giorni, nelle prossime ore e che sostanzialmente se il bitcoin in effetti se risulterà essere questo il limite di giornata, quindi questi 58.500, il bitcoin avrebbe creato una sorta di minimo più alto, quindi ecco il minimo precedente era questo qui e adesso il bitcoin è andato a toccare un nuovo minimo dopo questo impulso rialzista, poi c'è stato un nuovo minimo, quindi questa correzione pullback in questo caso e se dovesse essere questo il minimo sarebbe comunque un minimo più alto rispetto al precedente minimo, quindi andrebbe a significare che il trend di fondo anche all'interno di questo momento che sembra essere comunque di congestione dopo l'impulso rialzista andrebbe a significare che comunque la struttura non è invalidata e quindi è una notizia, potrebbe essere una notizia positiva, non lo sappiamo, però anche questo è un discorso tecnico, quindi l'analisi tecnica oggi osservando il bitcoin e anche ethereum ci dà due considerazioni, due lezioni che possiamo imparare, che ovviamente non vogliono, non solo consigli di investimento, potrebbe fra un'ora ripeto andare giù eccetera, ognuno deve abbassare le proprie strategie sulle proprie idee, le proprie scelte e una serie di parametri eventualmente che va a valutare. Tra questi parametri però la lezione che oggi ci arriva dal mercato delle criptovalute è che le medie mobili talvolta vengono sentite, perché la media mobile a 50 periodi è appunto da supporto in modo molto molto plastico e tecnico oggi finora sul bitcoin e che poi chiaramente in questo caso il bitcoin sta dando vita a una sorta di minimo più alto, quindi al momento non sarebbe intaccata la struttura rialzista in questo momento del grafico, ripeto struttura rialzista che potrebbe essere intaccata quando poi vedrete voi più tardi il video perché non ci sono certezze in questo tipo di discorsi, però dal punto di vista scolastico mi interessava farvi vedere quello che i mercati oggi, osservando i grafici, possono insegnare a chi ci sforza di osservarli con un'attenzione un po' più particolare, un po' più approfondita. Allo stesso tempo vi chiedo per chiudere questo breve video di votare al sondaggio che ho appena lanciato sul mio canale Twitter, chiedendovi un po' cosa ne pensate di questo finale d'anno perché di solito quando arriviamo a metà novembre, quindi manca poco, tra virgolette alla fine dell'anno, ci si inizia a chiedere se ci sarà il canone corelli di inizio anno delle borse perché diciamo tendenzialmente statisticamente novembre e dicembre sono dei mesi in cui in molti casi si è verificato un rialzo, ci sono mesi ben peggiori dal punto di vista statistico come ad esempio febbraio e marzo o anche lo stesso ottobre. Per quanto riguarda invece gli ultimi due mesi dell'anno la statistica è a favore, non la certezza, parliamo di statistiche, quindi spesso si verifica un reale di fine anno, allora io vi chiedo adesso, dato che le borse hanno già corso tanto finora, piazza affari più 25, wall street più 25, dax tedesco più 18, comunque dai massimi storici, quindi è un anno a doppia cifra piena piena per tanti importanti indici globali, è anche in questo contesto diciamo plausibile immaginarsi un'ulteriore accelerazione che poi andremmo a chiamare i reali di fine anno, è un sondaggio interessante, mi avviso esprimersi perché dà l'idea di un sentiment. Lanciato da poco, per ora ci sono 53 voti, vi invito a votare fino a domani, per ora è in vantaggio il sì, ma molto combattuto anche il no e il non idea che messi insieme vanno quasi a pareggiare il sì, quindi sostanzialmente c'è molta indecisione, quasi un po' come il lancio di una monetina. Per oggi è tutto, spero di esservi stato utile, vi invito, ripeto, a leggere anche i miei articoli sul Sole24ore dove approfondisco più nel dettaglio tutti questi aspetti e questi spunti analizzati in questi video. Buona giornata!